Avete fatto delle ricostruzioni apocalittiche di guerre e distruzioni in Italia, quindi credo che vadano un minimo smentite. Ha richiamato la ricostruzione post-sisma. Ricordatevi che il DL74 di allora, fatto dal governo Monti, non metteva un euro di risorse certe, perché aumentava le accise sui carburanti e metteva delle risorse ipotetiche che sarebbero arrivate dopo. Tant'è vero che a quattro mesi dal sisma non era ancora arrivato un solo euro alla popolazione. Un solo euro. C'erano i sindaci che protestavano dopo quattro mesi. Oggi questo governo sul sisma e sull'emergenza, sull'alluvione, ha messo risorse certe, 2 miliardi, un intervento che non c'è mai stato in precedenza. Oggi i cittadini stanno già iniziando a ricevere i 5 mila euro, cosa che in tutti i passati alluvioni, anche in Emilia-Romagna, in questi tempi non è mai avvenuto. Quindi smettiamo di raccontare delle fandonie e raccontiamo le cose come stanno. L'intervento sull'alluvione oggi è stato celere e con risorse poderose. Dopodiché c'è il tema della ricostruzione, che è un tema giusto, c'è il tema del commissario, che è un tema giusto. Il commissario non deve essere per forza il presidente della regione, perché sennò la Gualmini mi deve spiegare perché in Abruzzo hanno nominato Legnini quando il presidente della regione era Marsiglio e Legnini era quello che aveva perso con Marsiglio. Quindi sul commissario, il nome del commissario non deve essere legato alla testa del Partito Democratico. Stiamo facendo delle scelte, i tempi, siamo ancora nella fase dell'emergenza. Oggi i soldi ci sono già.